Taglio del nastro in piazza San Gaetano per la 150esima fiera di Natale di Napoli realizzata a cura delle botteghe di San Gregorio Armeno e dell'associazione per l'arte presepiale di San Gregorio Armeno. L'iniziativa ha beneficiato del sostegno di alcuni sponsor. Molti napoletani ci tengono tantissimi, ma anche all'estero ho avuto messaggi dall'Inghilterra, messaggi da New York, messaggi da ovunque, solidarietà, che addirittura le persone hanno chiesto a noi se volete che voi fate una raccoltafondi, noi siamo disponibili. L'importante è che la tradizione che rappresenta la storia di Napoli, la storia che poi è conosciuta in tutto il mondo, prosegua nel suo percorso. Nelle casette di legno collocate lungo le vie dei presepi saranno esposti i manufatti dell'artigianato locale e in primo luogo le celebri statuine con le figure tradizionali e i personaggi ispirati dall'attualità. È bellissimo che il nostro Natale si inauguri con l'apertura di San Gregorio, l'apertura delle casette della fiera, l'apertura del percorso, del posto più bello di quelli che si possano immaginare durante il Natale, più caratteristico, più pieno di ingegno, di arte e di storia.